Noi ci siamo incontrati, anche se virtualmente diciamo così, per il Festival della Meraviglia che è stato di recente ospitato all'Aveno Monbello e in cui lei ha parlato proprio della natura che cura. Sì, si tratta proprio di questo, si chiama biofilia, è un'attrazione innata che noi esseri umani abbiamo nei confronti della natura e di ciò che ci ricorda la natura, ma anche delle forme e dei colori naturali. E questa nostra attrazione, questa nostra voglia, necessità di circondarsi di natura, porta tantissimi benefici effetti sul nostro organismo. Il primo di tutti è quello che la natura e ciò che ricorda la natura è un antistress naturale, abbassa i livelli di cortisolo nel sangue, riduce la frequenza cardiaca, la pressione arteriosa e quindi è veramente una manna a portata di tutti. L'importante è trascorrere nella natura, anche con una semplice passeggiata, una parte della nostra giornata. Bastano anche solo 30 minuti, un'ora al giorno nel verde per stare nettamente meglio.